Il centro-estera è compatto sulla candidatura di Silvio Berlusconi, anche perché è l'espressione della sua storia, della storia di 25 anni, l'espressione di una personalità politica che ha una grande statura internazionale, così come è stato detto dal segretario del Partito Popolare Europeo. 8 presidenti, 7 presidenti su 12, 8 presidenti su 13 sono stati eletti a maggioranza nel Parlamento e solo 5 sono stati eletti con una maggioranza molto ampia. È chiaro che le strade rimangono due, la strada dell'unanimità e del consenso, ma su questo noi non accettiamo pregiudizi, quindi non accettiamo preclusioni nel dialogo con tutti sulla figura di Silvio Berlusconi, oppure quella della maggioranza. La prima strada che tutti noi dobbiamo tentare è certamente quella di un dialogo tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento.